Come hai saputo di questo format? Dalla prefettura Odini dall'alto Quanti sono i candidati per questo reality? Circa 40.000 all'anno I tuoi genitori sono italiani? No E tu? Magari La cosa più italiana che hai fatto? La fila per il permesso di soggiorno Fare la precaria Cantaci l'italiano di Cotugno Lasciatemi cantare Perché ti serve la cittadinanza italiana? Per scendere in campo Per proseguire gli studi Perché ne sono fiero Fammi una faccia da italiano Perché hai votato alle ultime politiche? Non posso votare Lega La legge sulla cittadinanza italiana? Legge 91 5 febbraio 1992 Conto la barzelletta La legge 91 5 febbraio 1992 192 Sono un italiano Cosa fai se vinci? Uaaaaaah E se non vinci? Eh eh Ritorno a fare la fila per il permesso di soggiorno Perché dovremmo scegliere proprio te? Veramente dovresti scegliere tutti Cittadini Si nasce? Magari Dimmelo tu Un italiano vero? Perché dovremmo scegliere tutto il permesso di soggiorno? Grazie a tutti.